Come hai scoperto questa storia e perché hai deciso di raccontarla? Allora, l'ho scoperta tanti anni fa da un articolo di cronaca che celebrava, credo, il trentennale da quel delitto, trent'anni da quel delitto e mi incuriosi fortemente, mi emozionò tantissimo e provai una sensazione di smarrimento, anche un po' di dolore, perché immaginavo proprio la scena dei due ragazzi quando furono trovati soli, perché prima erano scomparsi per qualche settimana e non si trovavano i due ragazzi e poi si trovarono i corpi con le mani intrecciate tra loro e con una scena del delitto che dichiarava abbastanza apertamente che c'era stato qualcun altro lì, però poi fu un po' insabbiata questa storia e classificata addirittura come omicidio e suicidio. Tutto questo mi generò una forte emozione e io, un po' come una promessa a quei due ragazzi, ti dissi dentro di me, prima o poi la racconterò questa storia o mi ispirerò, infatti mi sono liberamente ispirato. È una dedica che faccio ai due ragazzi di Giarra, a Tony e Giorgio, senza proprio un attimo di esitazione, è dedicato ai loro due. Eleonora, fratelli, mia moglie ha prodotto il film e quindi ha prodotto un sogno, non un film, ha prodotto e protetto il mio sogno, queste sono parole sue che ha detto in conferenza stampa all'anteprima e mi ha colpito, mi ha emozionato l'idea che lei avesse dentro di sé questo obiettivo. Un'ultima cosa rispetto al feedback del pubblico, sei stato nei luoghi dove hai girato, sei stato in Sicilia, in quelle zone lì, a far vedere il film e qual è stata l'impressione? Beh, lì siamo stati a Siracusa, quindi poco lontano da dove sono nato, è cresciuto Augusta, Siracusa, Catania, Palermo. Conto di tornare perché ci sono molte altre città che mi aspettano, che aspettano il film e sono molto felice che la mia terra abbia accolto questo film con gioia e grande emozione. ho cercato di raccontare con una grandissima verità un aspetto della mia terra che deve essere raccontato un po' più spesso, senza essere didascalici o patetici, ma che venga raccontato il fatto che quella è una terra che genera veramente molto amore, tanto amore, cultura, passione e non solo quell'altro stereotipo, ormai un'iconografia troppo pesante per noi che è ritornata di nuovo alla ribalta con un arresto eccellente e tornato il marchio mafia su tutte le prime pagine del mondo e questo fa un po' male. Da una parte abbiamo fatto una bella cosa, c'è una cattura importante, abbiamo finalmente estirpato alla radice un male veramente che si era radicato troppo profondamente, dall'altra però è riemerso di nuovo quella iconografia. Mi auguro che questo film nel suo piccolo invece faccia da contraltare.